buongiorno a tutti buongiorno la notte vi ha portato consiglio no non è vero la notte non ha parlato niente ha parlato l'alba per fortuna perché vuol dire che siamo qui a raccontarcela e vuol dire che saremo qui a raccontarcela anche questa sera alle 18 e 45 appuntamento imperdibile imperdibile con tre b con la compagnia della live mi raccomando non mancate 3 6 6 1 1 1 2 9 6 4 è il numero per i vostri messaggi sms whatsapp e tutto quello che serve per entrare in contatto con noi non telefonate durante il giorno perché non vi risponde nessuno ho trovato telechiamate non chiamate durante il giorno potete chiamare solo in diretta se no potete lasciare i vocali ma non telefonate durante il giorno perché non abbiamo ancora la compagnia della live non è ancora il servizio di centralino magari ci attrezzeremo presto ma non lo abbiamo quindi mi raccomando allora io questa mattina ho scritto l'ho scritto ieri sera ma questa mattina ho pubblicato un pensiero sulle parole di paolo maldini che sono state ovviamente dopo la partita dal mio punto di vista la cosa un pochino più sgradevole di questa di questo momento di questa serata di quella serata ma non tanto non tanto come dire per muovere un'accusa nei suoi confronti ma semplicemente perché i contenuti e un po' la forma dal mio punto di vista sono stati poco caritatevoli nei confronti dei tifosi del Milan sarebbe facile naturalmente rifarsi alle sue parole e sarebbe anche giusto in un certo senso perché le parole hanno un peso le parole valgono deve stare molto a te io lo dico da anni chi mi segue da anni lo sa dico attenzione al peso delle parole perché le parole contano se poi oltretutto queste parole vengono scritte su un articolo sulla gazzetta dello sport a pochi giorni dalla vittoria di un campionato contano ancora di più c'è da fare chiarezza sulle parole di paolo maldini perché da un lato abbiamo un dirigente che come tutti noi è deluso e anche preoccupato della situazione attuale dall'altro c'è un uomo che ha sposato un progetto firmando un rinnovo di contratto questo progetto ha detta sua dove deve prevedere non doveva deve prevedere delle garanzie determinate garanzie di di crescita di sviluppo eccetera ma se noi ci rifacciamo le sue parole e quindi a quelle che probabilmente sono state le sue richieste e le parole di paolo maldini di ieri e non solo di ieri e troviamo una discrepanza che ci fa riflettere e un po dispiace perché dopo una sconfitta così in un momento difficile ovviamente nessuno ripeto non venite fuori a dire tra l'altro mi spiace dirlo ma non venite fuori a con pioli se ne deve andare adesso deve essere esonerato non venite fuori a parte che non ho capito chi è quello che ha capito che io volevo l'esonero di pioli non ho capito che cosa abbia capito ma non ci siamo capiti ma detto questo non venite a parlare di alternative perché non ce n'è non ce n'è andate su transfer mark cercate allenatori liberi e guardate che cosa c'è the bird volete lasciando stare tu che il pocettino questa gente qua che non viene perché se lo sapete meglio di me andate a vedere adesso non è il momento di mettere in discussione pioli anche per una questione di spogliatoio perché tu non puoi delegittimare allenatore adesso allenatore deve riprendere in mano la situazione per farlo ha bisogno dell'appoggio della società se crede in lui e la società crede in lui ma anche noi crediamo in lui è in un momento di totale confusione ma tutti noi speriamo per il bene del milan che da questa confusione ne esca in qualche modo ecco allora le parole di ieri dopo lo scempio dopo il carnaio dopo una partita orrenda non giocata dalla nostra squadra secondo me avrebbero dovuto essere un pochino più consolatorie e quasi anche di scusa ma non di scusa per venire a dire noi ci scusiamo perché chi lavora sbaglia e solo chi non fa niente non sbaglia però una scusa come dire un po diplomatica per dire guardate siamo in un momento così è un momento difficile ce ne rendiamo conto tutti vogliamo uscirne stiamo lavorando per uscirne abbiate pazienza e cercheremo di risollevarci no e invece paolo maldini ci dice che siamo al secondo posto che abbiamo vinto un campionato che siamo comunque nei parametri e allora quando ti dicono così da paolo maldini non te l'aspetti diciamoci la verità non te l'aspetti ti aspetti un parole un po più da milanista piuttosto che da aziendalista perché ha tirato fuori il discorso che noi non possiamo che le spese pazze come la premier league ma che noi non possiamo fare neanche come le altre squadre italiane cioè non era il momento quello lì di parlare di questa cosa non era il momento di giustificare un momento difficile un periodo difficile una serie di partite fallimentari attraverso come dire lo scudo del io più di così non ho potuto fare perché la sensazione è quella la sensazione è che paolo abbia voluto in un certo senso mettere le mani avanti e dire io più di così non posso fare perché dobbiamo essere sostenibili perché il bilancio perché questo perché quell'altro e quindi e quindi siamo comunque nei parametri ecco è questa la cosa che mi ha dato fastidio è questa la cosa che è non solo a me perché in tanti mi avete scritto che condividete il mio pensiero è stata una cosa un po sgradevole in quel momento più delle parole di pioli che voglio dire cioè che cosa doveva dirci e niente le solite cose lavoreremo faremo abbiamo sbagliato questo e quell'altro quello ci interessa poco ma dal punto di vista della dirigenza intervento che io ho richiesto a gran voce che è arrivato mi aspettavo come dire un livello comunicativo un pochino più adeguato alla circo alle circostanze ecco questo è quanto perché se no ripeto chiudo su questo argomento poi un attimino una cosa superiori la dico perché se no sembra davvero e da paolo maldini non ce l'aspettavo non ce l'aspettiamo che lui voglia giustificare alcune il momento forse alcuni errori forse alcune scelte sbagliate con lo scudo del no e la società è più di non spende la società non caccia un soldo perché no perché i parametri perché questo perché quell'altro ecco questa cosa stride non solo con il momento con la scelta del momento per dire quelle cose chiedo scusa ma anche con le sue parole con le sue parole prima di quel mese di trattative che hanno frenato il nostro mercato e che lascia perdere perché uno non può dire certe cose allora o ci sono dei piani che sono cambiati al momento della trattativa e quindi diciamo il progetto non è più quello che lui voleva cioè l'inserimento di due tre giocatori importanti in stagione ma continua sul piano del giovani alla cifra che diciamo noi di prospettiva da far crescere per creare un gruppo benissimo però non devi dire quelle cose allora perché se tu dici quelle cose dici i più oggetti e la società se non coincidono con la mia visione che è quella di allora poi dopo uno si fa delle domande no ecco diciamo che lì paolino sia un po incartato ecco sia un po incartato però però può uscirne e come dove noi non vediamo cioè può uscirne aiutando pioli a riprendersi a svestire i panni come dire del fondamentalista talebano che vuole andare avanti a sbattere sul muro per la sua strada cercando di consigliare una cosa che non è quella adesso di buttare tre anni di lavoro all'aria per fare un 352 ultra difensivo dove ci arrocchiamo tutti in difesa no no però siccome ci siamo sempre detti che l'allenatore bravo è quello che mette i giocatori nella posizione giusta per rendere meglio e dal punto di vista di atteggiamento schiera la squadra migliore in quel momento adesso pioli deve fare questo il riserva sbagliato evidentemente è inutile che arrivino i difensori di pioli a dire che non c'entra niente rispetto no pioli c'entra lo dicono tutti quelli più autorevoli di me più bravi di me che ne sanno più di me lo dicono anche loro e allora insomma se lo diciamo se lo dicono in tre quattro di loro gli si può anche un po credere no per quanto i giornalisti vi facciano schifo ma ieri sera è emersa questa cosa che pioli è andato alla battaglia decisiva con con i suoi con i suoi uomini col suo sistema di gioco con le sue idee questo gli fa onore come ho detto ieri per quel che riguarda la coerenza ma è inevitabilmente una scelta fallimentare per chi ha comportato lo sfacelo che abbiamo visto ieri il non gioco la non squadra che abbiamo visto ieri e questo è un problema e allora pioli può ancora salvare la baracca pioli può ancora rimettere in sesto le cose a patto che naturalmente come dire le cose e questo non lo sappiamo non siano talmente compromesse dal punto di vista di rapporti e di identità da non poter essere più raccolte e unite e tenute insieme dalla stessa visione dallo stesso progetto perché può succedere questo e può succedere noi non sappiamo niente questa è una mia idea la mia idea ma l'atteggiamento in campo ci racconta questo atteggiamento in campo ci racconta questo le parole di tonali anche in un certo senso forse ci stavano avvertendo che qualcosa stava cambiando e perché ci dicono questo perché ognuno va per conto suo perché l'abbiamo visto perché ognuno fa quello che gli pare ognuno va per conto suo ognuno fa la giocata cerca la giocata da solo non c'è intesa vi ho raccontato ieri dell'episodio sulle rigore per la Lazio che cosa è accaduto è accaduto che siamo andati siamo andati in confusione perché non gli ha voluto passare quel pallone perché c'è qualcosa e allora quando c'è qualcosa e in campo si vede è evidente che il rimando a uno spogliatoio non più unito a un'unità di intenti non più presente c'è e non si può ignorare ecco perché io parlo di una preoccupazione che ho da un punto di vista di appunto di visione come se non lo so è come se paradossalmente la partita con la Roma la gestione finale dei minuti finali della partita con la Roma e la mancata vittoria avesse sollevato la nostra squadra dalla convinzione di poter prendere il Napoli sommato questo a una certa consapevolezza nei propri mezzi data dalla vittoria del campionato e data dal fatto che molti ci davano come favoriti anche quest'anno probabilmente tutto questo ha rotto alcune certezze ha rovinato alcuni rapporti di fiducia magari forse poi quelli nuovi che non giocano chi lo sa forse poi invece quegli altri che giocano sempre chi lo sa non ho idea sta di fatto che qui il lavoro da fare è di testa e poi tattico le due cose sono legate la prima più importante della seconda in questo momento perché c'è la mancanza di convinzione dei propri mezzi c'è un smarrimento e quasi una rassegnazione che noi non vedevamo da tanto tempo dal tempo di quella Atalanta Milan là ecco temi di discussione aspetto i vostri messaggi vi auguro un buon pomeriggio 18.45 compagnia della live in diretta naturalmente 366 111 2964 non chiamatemi adesso perché non abbiamo il centralino ma magari chissà un giorno lo avremo ciao